Claudia Mori nell'occhio del ciclone. Ornella Muti racconta tutta la verità, lei, la moglie del molleggiato, aveva un amante e lui in questione è famosissimo. Ecco tutto quello che sappiamo su questa misteriosa vicenda. Adriano Celentano e Claudia Mori, di nuovo i riflettori puntati su di loro. La bella attrice italiana, Ornella Muti, racconta tutta la verità e tira fuori uno scheletro dall'armadio che fa tremare la coppia più bella del mondo. Claudia Mori nell'occhio del ciclone. Sposati da tantissimi anni, Claudia Mori e Adriano Celentano sono considerati da sempre una delle coppie più belle del mondo, mai canzone fu più azzeccata per loro. Eppure, come tutti, anche il duo del mondo dello spettacolo più amato e famoso d'Italia, ha vissuto momenti di crisi e alti e bassi dovuti soprattutto a corna e tradimenti. Se fino ad ora si pensava che ad essere stata tradita fosse soltanto la Mori, arriva un'indiscrezione che promette di far tremare la coppia. Anche la bella Claudia ha messo le corna ad Adriano e proprio con lui, una persona importante, un personaggio famosissimo del mondo dello spettacolo. A raccontare tutta la verità ci pensa l'ex amante del molleggiato, Ornella Muti, che dopo anni tira fuori il segreto custodito gelosamente fino ad ora. Ecco che cosa ha confessato la bella attrice italiana a questo proposito. Il molleggiato tradito dall'amore, Ornella Muti e Adriano Celentano sono stati in passato amanti. I due si sono conosciuti sul set del film Il Bisbettico Domato, e tra di loro è nata la passione proprio nel periodo in cui Adriano e Claudia stavano vivendo un momento di crisi. A raccontare dell'avvenuto tradimento è stata proprio l'attrice italiana che in un'intervista ha dichiarato, i due famosissimi hanno avuto una relazione che è durata poco ma che ha fatto parlare comunque tutta Italia. Nonostante il tradimento, la Mori ha perdonato Adriano e i due hanno ricostruito, pezzo dopo pezzo, il loro amore e la loro famiglia. Eppure, è proprio Ornella Muti a spifferare un segreto di cui nessuno sapeva nulla, anche Claudia ha tradito Adriano. Questo il segreto svelato dalla famosa atri, la confessione di Ornella Muti sconvolge tutti, a chi fa riferimento la bella Ornella? Secondo alcune indiscrezioni, Claudia Mori avrebbe tradito il famoso molleggiato proprio con un altro personaggio famoso della televisione italiana, un conosciutissimo attore. La Mori ha fatto però un mea culpa e in più occasioni la moglie del molleggiato ha chiarito la situazione addossandosi anche le responsabilità per quanto accaduto nel suo matrimonio. Sebbene non parli esplicitamente delle ragioni che l'abbiano portata ad allontanarsi per un periodo dal marito, tenendo in considerazione le parole di Ornella Muti che oggi hanno un significato forte, fare due più due è davvero semplicissimo. La Mori non ha voluto mai parlare esplicitamente dell'uomo con il quale ha tradito il molleggiato e l'attore che l'avrebbe fatto a capitolare ai suoi piedi resta ancora oggi una presenza misteriosa della quale nessuno, nella famiglia Mori Celentano, ha il piacere di parlare. Tradimenti e corna parte, dopo aver risolto le loro incomprensioni matrimoniali, Adriano e Claudia sono ritornati ad amarsi, a cercarsi ma soprattutto a tenersi ancora oggi, dopo tanti anni, continuano ad essere la coppia più bella del mondo. Grazie a tutti!